E' iniziata oggi la pre-raccolta firme, a giudicare da quello che si sta vedendo sarà un successo? Un successo, questo ci auguriamo logicamente, ce lo auguriamo per tutti quanti, per tutti noi, per tutti i concittadini. Detto questo ricordiamo, la raccolta firme si fa in centinaia di gazebo in questo fine settimana, ma dalla prossima settimana saranno disponibili le raccolte firme anche nei comuni, quindi ricordiamolo a tutti, sarà possibile andare a firmare anche nei propri comuni di residenza, questo è importante perché se non si può andare a firmare nei tanti gazebo di questo fine settimana, appunto ci saranno ancora due mesi per andare a raccogliere firme nei comuni. Secondo lei quale sarà il referendum più sentito? Probabilmente con la legge Merlin, però tutti hanno una loro valenza, ricordiamo la legge Forneo, l'abrogazione di questa legge assurda che sostanzialmente ha messo in ginocchio migliaia di famiglie.